Segnale News Si lavora il new look della zona bassa del capoluogo Anche se non mancano le polemiche Soprattutto per quanto riguarda quella che sarà la nuova viabilità di questa zona Polemiche che arrivano soprattutto da alcuni commercianti Che non sono contenti e che chiedono l'amministrazione comunale di cambiare Voi commercianti qui nella zona Scalo vi state lamentando perché sono partiti i lavori E state rilevando problemi, ecco quali? Allora innanzitutto i parcheggi Perché i nostri clienti e anche noi commercianti non sappiamo nemmeno dove parcheggiare Prima di iniziare i lavori secondo me la prima cosa da fare era trovare dei parcheggi idonei E togliere il parcheggio dei pendolari e portarla ad un'ora Questa era la cosa secondo me principale Poi il traffico che secondo me la gente cambierà strada Perché andrà sulla Montilevini anziché passare per la stazione A meno che non ha senso di venirci Ma senza dubbio io sono propenso a far vedere il registro alla mano Gli incassi di mercoledì che era un giorno prefestivo Ovvero prima della festa della liberazione E quindi sì ci sono dei netti calo di lavoro E poi mi ricollego a quello che diceva lui La prima cosa erano i parcheggi Perché c'è il posto in largo qua dietro alla stazione Dove loro, che rientra sempre nel progetto dello scalo Per fargli dei parcheggi Per farci dei parcheggi Invece hanno cominciato dall'opposto Togliendoli prima e poi magari in un secondo momento farli E purtroppo come diceva sempre Armando La gente si stufa Oltre a fare da De Matteis alla stazione Per circa 6-700 metri Impiegarci un'ora forse Ci rinuncia e gira sulla Montilevini Quindi verremo sempre più isolati Ecco Armando L'amministrazione cosa vi ha detto Voi avete chiesto un incontro Avete chiesto se ci fossero soluzioni differenti Ecco come è andata la cosa Guarda io so Non ho partecipato all'incontro che hanno fatto a febbraio Al laboratorio Scalo Però i commercianti hanno fatto delle richieste Ma il sindaco come sempre ha fatto a modo suo Senza ascoltare nessuno La stessa cosa che fece con noi Con lo spartitraffico che fece qui in zona Scalo A suo tempo Che prima fece vedere che lui era disponibile Alla fine invece si è rivelato Che sono venuti a fare lavori E nessuno si è visto Quindi questa è stata la cosa come sempre L'amministrazione non è che viene sul posto A vedere che cosa sono le esigenze E quali sono le esigenze dei commercianti Io spero che le cose cambino Perché a questo punto noi dobbiamo cercare Altri posti dove andare Perché lo Scalo muore Ma come hanno fatto su al centro storico La stessa cosa sarà qui allo Scalo Sempre privilegiando Via Aldomoro Perché qui da noi purtroppo le cose non vanno bene In questo modo Più che in mediazione non c'è stata proprio la possibilità Di avere un colloquio Onesto Con l'amministrazione Io ho partecipato a febbraio A una riunione tenutasi Nella sede del comitato Scalo In cui il sindaco ha illustrato Questo progetto E già all'epoca Gli fu Fatto notare Che comunque sia La decisione di poter Di troncare La viabilità di Via Dominzoni Comunque avrebbe Avrebbe creato dei problemi Alla viabilità E si è dimostrato A essere così Non c'è ombra di dubbio Sotto gli occhi di tutti È una cosa che lui Non ha voluto neanche Prendere in considerazione Quando gli è stato detto Che veniva Comunque Interrotto Il traffico A Via Verdi Quello proveniente Da Via Dominzoni Ha fatto del tutto Per creare Quella bretella Che ha fatto 20 giorni fa Tutto per portare a termine Un progetto Che Secondo il mio parere I commercianti E gli abitanti Dello Scalo Non disdegnano Perché la creazione Di una piazza Io penso che la vogliano Tutti Non è quello il problema Il problema Fondamentale È che farla partire Dal sagrato Della chiesa Della sacra famiglia Per andare a Prendere tutti i giardinetti E metà parcheggio Si poteva sicuramente Ridurre un pochino La piazza E mantenere la viabilità Come stava Questo è il concetto Questa 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 rivoluzione Non lo so Che cosa porterà Sicuramente porterà Mancanza di parcheggi Perché adesso Via Sacra Famiglia È troppo stretta Per poter Per poter assorbire Tutto il traffico Di via Dominzoni Quindi non lo so Sicuramente Toglieranno Parcheggi Non lo so Speriamo che La soluzione Individuata dal sindaco Non siano Così catastrofiche Non lo so Se il buongiorno Si vede dal mattino Non è certo La soluzione migliore Un'altra cosa Invece che Tengo A portare a conoscenza Che tanta gente Pensa che Questa deviazione Del traffico Sia solo momentanea Per i lavori Non è così Secondo il progetto Comunale A ultimazione Dei lavori Comunque la viabilità Rimarrà questa Perché la strada Di via Dominzoni Verrà troncata Da un'isola pedonale Come commercianti Questa cosa Crea un sacco Di casini Cioè Hanno fatto Questo progetto Va bene Siamo d'accordo Però La soluzione Tipo i barcheggi La cosa più Importante Cioè La gente non si ferma E il traffico Danneggia parecchio A noi commercianti Ecco Siete molto preoccupati Qualcuno ci diceva Che stando così le cose Sarete costretti Ad andare da un'altra parte Certamente Guardi Due anni fa Hanno fatto il sipar di traffico Già a livello lavorativo Siamo Quasi il 50% sotto Solo per il sipar di traffico Però va bene Il traffico scorre Ok Siamo d'accordo Con questo fatto qua Biggiorà Molto di più E sicuramente Siamo costretti A andare a cercare Altri posti Chiedete Un incontro Al sindaco Prossimamente Magari Si è possibile Già il sindaco Il signor sindaco Due anni fa Quanto hanno fatto Il sipar di traffico Ha permesso di fare Qualche posto di barcheggio Ma Niente Fino adesso niente Sempre le cose come stavano Signale Signale